Come API noi abbiamo aderito convintamente alla manifestazione del Lanci contro i tagli previsti dalla finanziaria perché ovviamente siamo preoccupati che i tagli ai comuni significano meno servizi per i cittadini. Io vorrei anche aggiungere una cosa fondamentale, che i tagli del costo della politica non possono essere confusi con i tagli del costo della democrazia. La democrazia certamente ha un costo, ma per la democrazia ci sono moltissime persone che hanno combattuto il passato per arrivare al sistema che abbiamo oggi. Io credo che noi dovremmo impegnarci tutti per salvaguardare, per tutelare, per difendere la democrazia. Il Consiglio Comunale è un organo votato dai cittadini, i cittadini eleggono i propri rappresentanti a tutti i livelli, è guai se così non fosse. E quindi è assolutamente fondamentale preservare la democrazia e non confondere mai i costi della politica con i costi della democrazia. Quindi l'API aderisce appunto in questa battaglia a fianco del Lanci affinché questi tagli non vengano effettuati? L'API aderisce convintamente a questa battaglia. Siamo preoccupatissimi per il nuovo bilancio comunale perché se non abbiamo più i trasferimenti dello Stato ovviamente dovremo tagliare i servizi per i cittadini. E quindi sarà veramente una manovra lacrime e sangue e noi ci battiamo affinché questo non accada. Grazie. Grazie.